video log 880 potrebbe essere l'ultimo mesi fa partimo con un progetto molto ambizioso che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'umanità un gene in grado di trasformare un uomo comune in un individuo instancabile e inesauribile qualcosa da storto il soggetto zero riuscì a fuggire vani furono i nostri tentativi nel fermarlo e il mondo cadde così nel caos e nell'oblio questa è la fine del mondo ok e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti